stiamo parlando della stessa cosa chi non c'è nessuna responsabilità facciamo una chiamata sono a prendere l'aperitivo e dei ridicoli anche prima non c'erano stiamo parlando della stessa cosa perché non si può permettere non consiglio comunale non faccio uscire stare zitto può ascoltare ma non può intervenire male l'uomo non so come giusto non so come provo e lo disordano questo è il senso questo è il senso Provenza di Carlo Memoli da Luca, Lofredo, Mazzeo, Pellazzano, Pichiano, De Piazzara, Eravate sette, buffoni, 17 presenti e lavorate in sette. Grazie.